we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci chiuderone da bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo velocissimo video io sono chiuder e ragazzi sfida numero 3 del video di oggi della settimana numero 2 della season 9 utilizza un condotto vulcanico in partite diverse molti di voi diranno minchia chiuder è baggato perché io utilizzo i condotti vulcanici e non funziona ragazzi non è baggato è semplicemente un errore di traduzione dovete utilizzare queste robe qua ad esempio ne trovate una qua vicino ragazzi dove c'è la piattaforma del vulcano ma le trovate anche alla nuova tilted e probabilmente anche a mega mall come vedete buttandosi sopra ragazzi la sfida viene assolutamente conteggiata io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video spero di avervi tolto i dubbi noi ci vediamo alle 17 in live ciao iscriviti al canale